I carabinieri della compagnia di Urbino domenica scorsa hanno arrestato per estorsione in flagranza di reato un giovane italiano 28enne residente nella valle del Metauro disoccupato e con precedenti per numerosi reati. L'operazione è partita dalla denuncia presentata la scorsa settimana da un altro ragazzo che a partire dal mese di settembre aveva acquistato dal giovane 28enne delle dosi di cocaina senza però riuscire a pagare quanto illegalmente era stato pattuito. Di qui le intimidazioni e anche le minacce di morte nei suoi confronti e della propria famiglia che doveva saldare il debito nonostante lo stesso poi avesse provato a dilazionare nel tempo il pagamento. Sul suo cellulare sono arrivati numerosissimi sms e anche conversazioni che l'uomo terrorizzato dallo spacciatore ha mostrato ai carabinieri della stazione di Pian di Mileto e Urbania quando ha deciso sfinito di denunciare tutto per paura anche di ritorsioni fisiche. I militari dell'arma si sono messi così sulle tracce dello spacciatore e dopo diversi appostamenti lo hanno bloccato dopo che questi aveva estorto del denalo contante al malcapitato. I carabinieri hanno anche perquisito l'abitazione del pregiudicato all'interno della quale erano illegalmente detenuti proiettili di pistola, bilancini di precisione utilizzati per la pesatura dello stupefacente e un bastone nunciaco di tipo Kung Fu e un coltello a serramanico. Lo strozzino una volta affermato è stato portato nella casa circondariale di Pesaro e da questa mattina dopo essere stato interrogato dal sostituto procuratore la dottoressa Simonetta Catani che aveva assunto il coordinamento delle attività di indagine si trova agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Il centro di questa operazione di polizia comunque è lo spaccio di sostanze stupefacenti per il cui reato è stato ulteriormente indagato il pregiudicato arrestato. I carabinieri hanno ancora da definire i ruoli e le modalità di spaccio stabilendo i canali anche di acquisto della droga che viene successivamente ceduta nell'area urbinate servendosi di spacciatori al dettaglio. Quando questi non riescono a ottenere i soldi patuiti il meccanismo si inceppa e si avvia un percorso altrettanto illegale e pericoloso di recupero crediti che porta il nome di estorsione però e che spesso si conclude con una fine violenta.